Grazie mille, grazie, buongiorno. Io appunto sono Aretha Sobierai, sono la coordinatrice dell'area di educazione e finanza globale di Oxfam e sono molto contenta di essere con voi stamattina. Sono ormai diversi anni che Oxfam porta avanti una parte, contribuisce a una parte di questo programma della Fondazione Monte di Paschi School Food. Allora, inizierò con una presentazione che sarà un po' interattiva. Perdonatemi solo un secondo che l'ho imposto per andare avanti. Allora, giusto una conferma che lo vedete a schermo intero? Sì, sì, si vede. Perfetto, benissimo. Ok, quindi diciamo la nostra formazione dovrebbe durare fino a mezzogiorno e mezzo. Siamo in poche e dato che ho impostato alcune cose a livello interattivo, sarà importante la vostra partecipazione. Ora magari vediamo se riusciamo anche a condensarlo un pochino perché lo spazio ovviamente è dedicato a voi, insomma sarà minore rispetto a quello che potrebbe essere un spazio dedicato a più persone. Quindi vi chiederò diciamo anche una partecipazione attiva, di attivare il microfono a momenti, attivare anche i vostri telecamere a momenti. Allora, quali sono gli obiettivi di questa sessione di formazione? Sostanzialmente sono tre. Quello di conoscere e condividere tutta una serie di informazioni sull'obiettivo 13, quindi quello si parla della lotta contro il cambiamento climatico. Quella di illustrare e familiarizzare questo strand che tratta questo obiettivo globale, quindi quello che si chiama giustizia ed emergenza climatica e poi di mostrarvi alcune delle attività e metodologie perché sono tante e complessivamente è un percorso di molto più ore di stamattina, però almeno di mostrarvi alcune attività e metodologie che sono attive, sono partecipative che possono essere adattate per le vostre classi, per il lavoro che farete e ci auguriamo che farete con le vostre classi a scuola. Ok, quindi questi sono gli obiettivi di oggi. Scusate, mi sembra che non vi sono... non so cosa ho fatto. Come sarà svolta questa mattinata, come sarà strutturata? Allora, parteremo da noi, quindi mi farebbe, soprattutto siamo in pochi, quindi mi farebbe molto piacere conoscervi e che ci riconosciamo un attimo. Presenterò, diciamo, a macro linea questo strand, questo dedicato alla giustizia climatica e poi passeremo, prima della pausa, a vedere i primi quattro moduli, quelli che riguardano appunto l'agenda 2030. Ora si usa, in questa presentazione sto usando molto, diciamo, l'acronimo, quello inglese, no, di SDGs, quello di Sustainable Development Goals, per alcuni è più familiare, ma per altri magari non lo è, quindi quando vedete SDGs si parla di obiettivi globali, no, l'acronimo inglese per gli obiettivi globali, oppure l'agenda 2030, no, che sono tutti sinonimi. Quindi vedremo questa introduzione perché questo strand proprio apre il manuale, il kit didattico, quindi proprio le prime due moduli sono proprio dedicate anche alla conoscenza maggiore, no, dell'agenda 2030 e poi nello specifico dell'obiettivo 2013, il cambiamento climatico, nella prima, diciamo, delle tre declinazioni, dimensioni che hanno, diciamo, gli obiettivi globali, ovvero quello della dimensione umana. Ci sarà una pausa, più o meno verso le 11 e poi dopo la pausa avremo modo di continuare a vedere gli altri sei moduli, quindi quello che è il cambiamento climatico declinato nella sua dimensione ambientale e anche quella economica, con infine una riflessione sulla parte più attiva rispetto all'accidenanza attiva, ovvero come possiamo attivarsi come cittadini, cittadine responsabile e anche attivi per agire per il clima. Quindi questa è l'agenda di stamani. Allora, vado un attimo. Spero che anche per voi, stamattina ora la scuola è iniziata, quindi anzi è un buon inizio a questo anno scolastico. Siete in servizio, quindi è un momento comunque di formazione, però mi auguro anche che potremo anche passare il tempo bene insieme questa mattina. Come accennavo già prima, questo vuol dire che vi chiederò una partecipazione attiva, vi chiedo un po' di mettersi in gioco e così insieme perché assolutamente non è inteso come un apprendimento solo frontale, spero che potremo anche apprendere, diciamo, dallo scambio delle nostre conoscenze, quindi non solo naturalmente di quello che dico io stamani. Quindi per questo possiamo un po' iniziamo con voi, cioè iniziamo a, come dicevo prima, capire un attimo chi siamo. Mi piacerebbe se accendete un secondo i vostri microfoni. Questa attività volevo fare attraverso un sito, fra l'altro mi fa piacere anche di spendere qualche parola su alcuni siti, alcuni app, alcuni strumenti che possono anche essere utilizzati in classe che magari conoscete ma a volte non sono così conosciuti. In questo caso quello che vedete è un'app che si chiama Answer Garden, è un'app come come saranno anche gli altri accessibili, quindi ci sono sempre le versioni gratuite e questo è gratuito, diciamo, penso nella maggior parte delle proprie dimensioni che propone. È un modo anche di proprio scrivere le parole, creare delle nuvole, rispondere alle domande. Ecco, è un'app molto intuitivo, molto semplice, però è un'applicazione che potete eventualmente anche usare nelle vostre, nelle vostre classi e nei, insomma, momenti in cui potete utilizzare strumenti, strumenti digitali, andando in, nelle aule informatiche, eccetera. Però, dato che siamo così poche, in questo caso vi chiederò, così possiamo anche conoscerci conoscerci non solo nelle nostre discipline, ma anche chi siamo, quindi nome, dare un nome alle nostre facce e magari cosa insegniamo e dove insegniamo. Questo mi farebbe piacere conoscervi. Quindi, interrompo un secondo la la mia presentazione. Vi chiedo, se è possibile, che è attivato un attimo le telecamere. Ecco, vedo prima Stefania. Quindi, se posso Stefania, lascio a lei, diciamo, per la partenza di questo momento di di conoscenza reciproca e così chiedo anche alle altre due docenti se possono anche attivarsi le proprie telecamere, così ci conosceremo un attimo insieme. Prego. Io mi chiamo Stefania Santoni, insegno matematica e scienze all'Istituto Comprensivo Virgilio di Montepulciano. Montepulciano. Benissimo. Da quanti anni insegna lì? Due anni, perché ho sempre insegnato in un'altra scuola chiusi. È il mio ventesimo anno di insegnamento. Di insegnamento. Bene. Bene. Allora, grazie. E una ultima domanda. Lei ha già partecipato in questo programma? No, oltretutto era iscritta a una collega che non ha potuto partecipare per impegni col dirigente e quindi mi ha chiesto di partecipare al posto suo e lo faccio veramente molto volentieri. Bene. Bene. Grazie. Benissimo. Allora, non so se mi sente Elisa Failli. Se mi sente, ora magari non può accendere la telecamera, però se può accendere il microfono, ci farebbe piacere anche di sentire cosa insegna, dove insegna e magari da quanti anni in quella scuola, ma non so se può darsi che non è. Si sente? No, non ci sente. Niente. Allora, andiamo avanti, mi dispiace. Stefania, grazie per essere, soprattutto grazie per questo sostegno alla sua collega, ma anche per lei è un momento di scoprire il programma. Non so se scoprirà in termini scientifici novità, perché immagino che lei tratta in parte già queste tematiche, però soprattutto questo materiale è immaginato come un materiale che si può, cioè che è già pronto, nel senso ci sono delle attività, come immagino lei ha assistito alla introduzione, no? Stamattina a tutto, diciamo, il lavoro, quindi ci sono delle attività già pronte, poi naturalmente possono anche essere adattate alle proprie classi, alle proprie discipline, eccetera, però ecco, l'intento è un po' soprattutto di condividere strumenti, metodologie che possono anche essere, diciamo, speriamo di una utilità, ecco, per lei e per il suo insegnamento. Allora, condivido, quindi vado, torno un attimo a condividere nella presentazione dove ero, dove sono arrivata, e quindi ecco, questo per quanto riguarda lo struttura, mi sembra che avete già fatto, chiedo a Giovanna, anche conferma, stamattina, non so fino a che punto, no? È stato, diciamo, presentato nel dettaglio com'è la struttura del kit. In generale, fanno una presentazione del progetto, in generale, nel kit non scende molto nel dettaglio. Ok, ok. Non so se hanno fatto, perché non l'ho partecipato, non so se hanno fatto una presentazione, anzi, magari possiamo chiedere, su che ci sono quattro, sicuramente, sicuramente avranno detto ci sono queste quattro strand, quattro aree tematiche, perché è la prima volta, tra l'altro, per le medie, che c'è la possibilità di scelta quest'anno, perché l'anno scorso era solo per la primaria, e quindi sicuramente Laura avrà illustrato, appunto, gli strand e detto alle docenti che ci saranno da scegliere tre argomenti su quattro, giusto Stefania? Mi conferma, grazie. E poi, non so se già sapete, appunto, ogni strand contiene dieci moduli, di cui abbiamo i cinque moduli di base e cinque di consolidamento. Sì, di consolidamento, e ogni modulo, poi, l'attività, diciamo, è pensata a livello di tempistica per essere svolta in circa un'ora di lezione, ovviamente ogni classe e ogni caso a sé, e ogni modulo è impostato con una prima parte introduttiva, dove qua RET ha messo una scheda, diciamo, questo più utile a livello di quali competenze vengono sviluppate, insomma, cose generali meno utili nel dettaglio dello svolgimento dell'attività. Poi c'è una parte di nozioni essenziali per il docente, per lo studente, e poi il cuore pulsante, insomma, di ogni modulo è, appunto, l'attività organizzata la maggior parte delle volte in fasi. Non so, è verità, se è mostrata... Sì, sì, benissimo, anzi, non volevo nemmeno chiederti di illustrare in questo dettaglio, però ecco, grazie, è molto ancora più utile. E quindi è così, questo, appunto, come diceva ora Giovanna, è proprio una, diciamo, un estratto, no, proprio del manuale, e si vede che prima proprio di arrivare a svolgere l'attività, ci sono tutta una serie di, appunto, informazioni, dettagli, anche competenze, oltre gli obiettivi e tutte le pre-conoscenze che servono o che potrebbero essere anche sviluppate, cioè nuove conoscenze, insomma, per poi andare a toccare queste tematiche in classe. Quindi c'è una parte, appunto, sia di nozioni essenziali sia per la docente che anche per le studenti, per le studentesse. Allora, quindi, questo, appunto, sono questi dieci moduli, per quanto riguarda noi, Oxfam, noi trattiamo proprio i primi del kit didattico. Allora, e quindi nei nostri moduli, come, diciamo, illustravo un po' all'inizio, diciamo, è proprio l'inizio del manuale, quindi per questo motivo i primi due moduli sono dedicati, diciamo, a esplorare quali sono questi 17 obiettivi globali. Naturalmente poi già si tocca quello del cambiamento climatico, il numero 13, e si tocca questo poi tema attraverso le tre dimensioni che ci sono di nuovo qui, quindi la dimensione umana, la dimensione ambientale e la dimensione economica. Via via ora lo vedremo insieme, per poi passare, appunto, all'ultima parte che è quella dell'azione. Allora, i primi quattro moduli. I primi quattro moduli iniziano, appunto, con gli obiettivi globali, quindi ora non vedo più e chiedo qui a Giovanna di aiutarmi, se c'è anche Elena, mi sembra, non so se c'erano altri due docenti, non so se l'altra che è uscita e è ritornata con noi. Allora, Rata, io vedo Pulto Stefania Santoni e Elisa Failli. Elisa, scusami, non Elena. Sì, no, c'era una terza docente che però... Non è ritornata. No, si è scollegata e non... Si è scollegata. Elisa, non Elena, scusami. Allora, non so se Elisa, perché prima chiedevo ma mi sa che non poteva accendere il microfono e la telecamera, non so se ora può, però comunque continuo con Stefania. Allora, Stefania, non so quanto... Anzi, è una domanda che faccio e poi chiedo a lei. Allora, la maggior parte delle attività che faremo insieme oggi sono uno specchio di quello che troverete nel manuale. Naturalmente lo sto adattando a voi, insegnanti, no? Quindi è leggermente diverso, però poi troverete, ritroverete, o, diciamo, le stesse identiche attività proposte, ma con un linguaggio leggermente diverso, o attività che sono molto simile, però appunto già impostate per le vostre classi. Quindi anche in questo caso, quello che chiederò, di proprio andare a vedere queste icone dei 17 obiettivi, è un'attività che si trova appunto all'interno del manuale, una delle prime, che si chiama I colori degli obiettivi globali, SDGs, ed è un modo per iniziare anche a familiarizzarsi ancora di più su questi obiettivi. Quindi chiedo a tutte e due, se c'è anche Elisa e Stefania, prima magari di aprire il microfono e di condividere con me, con noi, se e come eventualmente lavorate sull'Agenda 2030, cioè con ora stiamo parlando delle classi seconde, ma se avete già affrontato questi temi con, cioè se le classi hanno già affrontato queste tematiche in prima, e caso mai come, e la seconda invece domanda è proprio quella che vedete un po' qui, di scegliere un'icona che in qualche maniera è particolarmente importante per lei, quindi associarlo con una parola chiave, uno slogan, questo magari è quello che chiederemo ai ragazzi e ragazze, però nel vostro caso stamattina vi chiedo semplicemente di scegliere una di icone, anche se non conoscete, diciamo in dettaglio, quali sono i obiettivi, qual è l'obiettivo, diciamo il dettaglio dell'obiettivo, però proprio la icona, cosa trasmette a lei, perché questa icona, perché questo tema è particolarmente importante, quindi se posso chiedere a Stefania o Elisa di aprire il microfono, prima ecco condividere se e come lavorate con l'agenda 2030 a scuola, e la seconda invece a livello più personale, quale di queste icone sceglieresti e perché? Allora, l'agenda 2030 in genere viene inserita per quanto mi riguarda nelle attività di educazione civica e l'icona che sceglierei e che ho scelto è la 5, la parità di genere, perché comunque insegnando materie scientifiche mi rendo conto che le ragazze non hanno ancora sufficienti modelli per poter seguire quelle che sono le materie STEM e quindi magari abbiamo fatto attività riguardanti le scienziate nel tempo, collogandole nella loro, diciamo così, nel contesto storico per comprendere quale difficoltà hanno dovuto affrontare per affermarsi nello studio delle materie scientifiche. e quindi diciamo che l'icona numero 5 è quella che mi è molto a cuore quella, sì. Benissimo, grazie. E Stefania, giusto, perché ora non vi vedo più. E Stefania che ha parlato, vero? Sì, sì, sì. Sì, sì, ok. Non so se Elisa invece può parlare, se può accendere un attimo la telecamera, se ci vede. Sì. Vedo, quindi non posso vedere, mi sa di no. Posso io, Rata? Prego. Se sono così pochi. Sì, sì, prego. Almeno partecipiamo. Noi insegniamo con il progetto School Food agli SDG dal primo anno, con vari partner, ovviamente perché no sono un po' collaterali, prendono tantissimi argomenti. E io questa mattina mi sento di dire, che è l'obiettivo a cui tengo molto, a parte tengo a tanti, ma soprattutto al 15, tutta la biodiversità sulla Terra, perché vorrei, a volte mi piace un po' dire questo slogan in giro alle persone, che il nostro benessere non può prescindere da quello della madre natura, no? e che quindi mi sembra un concetto così facile, ma a volte sembra che le persone lo ignorino, o anzi, o anche a volte proprio non lo conoscano, purtroppo. Grazie Giovanna, anche un bellissimo slogan, magari non è nemmeno il concetto giusto, anzi è proprio l'importanza di andare oltre i slogan, i cliché, per arrivare ai messaggi che in effetti hanno una potenza e una verità. E come dici tu, spesso dimenticata nel quotidiano, anche se si parla sempre di più, cioè sembra che molto spesso siamo ancora scollegati, no? da quello che diciamo e quello che facciamo. Poi dico, uso il plurale per veramente condivide questa responsabilità che veramente tutti e tutte hanno. Grazie Stefania per... Non l'ho sentito, scusami. Prego, prego. Scusate, io se l'ho detto certo, certo. Scusate Stefania, vai. No, no, io ringrazio, ma quello che mi colpisce sempre, quello che non riesco a fare, è all'interno della classe utilizzare l'agenda 2030 in modo sistematico. Spesso e volentieri arrivano come, diciamo così, attività a francobollo che vengono piazzate senza un'integrazione. Ancora non sono diventata molto brava a fare un percorso fluido, diciamo così, piuttosto che attività che vengono chiamate francobollo, che vengono appiccicate in una parte dell'anno e rimangono lì. Quindi mi fa piacere partecipare a questa formazione anche per questo. Benissimo, e speriamo, perché appunto questo è anche l'intento, cioè è un lavoro multidisciplinare, e quindi sappiamo che, come diceva anche lei, l'importanza di educazione civica, e questo in effetti ci dà veramente una chiave di una entrata diversa alla scuola. Poi purtroppo, in qualche maniera, sembra che ci serviva questa chiave, però alle fine immagino che ci siano comunque, come lei, tanti insegnanti che invece anche attraverso le proprie discipline hanno in passato e continuano anche a trasmettere questi concetti che hanno molto a che fare appunto con questi aspetti del rispetto, della tutela, che sia interpersonale, ma anche quella più estesa, ambientale e tutt'altro. Quindi speriamo che anche questo lavoro, questo manuale, insomma, possa contribuire anche un po' a questo, a rompere quella modalità che, come dice lei, non è sistemica e dare diversi spunti che poi possono essere integrati anche, diciamo, a livello più quotidiano, non solo in alcuni momenti. Bene, allora, ecco, una cosa che lei diceva prima è che, Stefania, è che di solito viene affrontato nella, diciamo, nell'ora di educazione civica. Chiedo quindi a lei, insomma, ora sono qualche anno, no, che l'educazione civica è stata introdotta nelle ore a scuola, cioè, quanto lei si sente, diciamo, cioè, quanto conosce, ora non so come porre bene questa domanda, no, ma rispetto proprio all'agenda, non so come lei la affronta in classe, nel senso che magari prende solo alcuni degli obiettivi o parla dell'agenda, diciamo, più ampiamente con la mia domanda per anche vedere se in effetti condivideranno questi video, perché se lo conosce molto bene non avrebbe tanto senso per lei. Allora, noi in genere facciamo, sì, dei percorsi interdisciplinari nella nostra programmazione, in cui ogni docente sceglie di lavorare su un tema, quindi, diciamo così, la nostra conoscenza è più che altro settoriale, io mi occupo della parte scientifica e solo l'anno scorso ho voluto veramente occuparmi della parità di genere con le scienziate e i colleghi di italiano hanno lavorato sempre sulla solita tematica, ma solo dal punto di vista, diciamo così, delle materie umanistiche, quindi, è un lavoro, diciamo, che stiamo cercando di integrare, ma è anche piuttosto settoriale, dipende molto dalla materia che noi insegniamo, quindi magari serve una maggiore integrazione, un percorso più integrato e fluido in modo che i ragazzi capiscano che non si lavora a compartimenti stagni, ma che sia un argomento da trattare sotto tanti punti di vista, ma che è importante, focale. esatto, bene, quindi, insomma, conosce abbastanza bene, anche magari se sulla dimensione più scientifica, però conosce i 17 obiettivi, cioè ha avuto modo di vederli, magari non forse tutti così in approfondimento, però. Sì, abbastanza, non mi vado molto approfondito, ma diciamo così, in modo sufficiente, diciamo. In modo sufficiente, benissimo, allora qui quello che lei vede sullo schermo è un video che avrei diciamo condiviso nei casi in cui magari ci sono, perché ci sono ancora diversi insegnanti che magari non conoscono così bene l'Agenda 2030, quindi è un video istituzionale, diciamo, promosso dall'Agenzia, l'Aleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, l'ASVIS, quindi è un video che si può anche trovare molto facilmente. Invece, all'interno del manuale, qui l'ho inserito come asterisco nell'allegato 3.2, con la classe invece si può mostrare un video, soprattutto questo è un video di Malala, quindi è una ragazza, cioè tra l'altro qualche anno fa, quindi una ragazza giovane che parla a altri ragazzi, ragazzi, più o meno coetanei, e proprio introduce questa agenda 2030, le varie obiettive che ci sono e poi appunto questa domanda che cosa hanno in comune questi obiettivi, quindi lei, magari questo invece mi soffermo più su questo aspetto, lei parlava prima dell'importanza anche di lavorare anche in un'equipe perché ognuno magari rafforza la sua parte, però da quello che lei ha visto in questi ultimi anni del lavoro sull'agenda 2030, quali sono i concetti che per lei sono quelli appunto più importanti che in qualche maniera sono comuni a tutti i 17 obiettivi? Allora, sicuramente il rispetto per l'ambiente e quindi praticamente la protezione della biodiversità che è un concetto difficilissimo da far comprendere ai ragazzi ma è diciamo così profondamente importante il fatto di avere tutti le stesse opportunità e della difesa soprattutto di chi non può la difesa soprattutto delle persone più indigenti. Questo sono due infatti sono due concetti davvero molto importanti poi ha toccato quello diciamo due delle tre anche forse tutte e tre dimensioni che menzionavo all'inizio quindi quella sociale quando parla delle stesse opportunità e quella ambientale rispetto per l'ambiente la biodiversità eccetera e poi anche in parte quando difese per chi non può magari chi non può è spesso legato anche a diciamo a condizioni economiche ovviamente non è solo quello però sappiamo che le disqualianze economiche poi diciamo causano e sono anche la conseguenza di tante altre disqualianze quindi in effetti ha già toccato le varie tre dimensioni e in effetti sono un po' questo la diciamo la macro guida anche all'agenda 2030 nella declinazione poi di tutti i 17 obiettivi infatti è questo qui che che appena ha detto lei si vede che gli obiettivi diciamo qui è diviso proprio per le varie obiettivi però si vede anche che insomma c'è una collegamento una connessione questi tre cerchi che in effetti si incastrano proprio per creare tutti i 17 obiettivi che toccano ecco queste tre dimensioni allora entriamo nel merito del nostro obiettivo 13 quindi si parla della lotta contro i cambiamenti climatici qui invece mi interrompo la condivisione perché volevo un attimo tornare a lei e a voi quindi chiedo anche a Giovanna la partecipazione ora non so se Elisa ci sente se si può attivare un attimo la telecamera per vedersi però quello che mi piacerebbe fare con voi è sperimentare in primis in una maniera molto più ridotta perché lo faccio solo nelle primissime come si dice le primissime domande però volevo condividere con voi un mentimeter ora non so Stefania se è uno strumento che conosci o che usi il mentimeter no non lo conosco ok allora questo insomma mi fa piacere ecco che ci sono anche in questo caso strumenti diversi che poi uno spero in qualche maniera possa anche utilizzare nella didattica lo usiamo diciamo noi che facciamo le formazioni che poi creiamo anche strumenti didattici lo usiamo molto soprattutto dal dal covid in poi quando si è spostato molto diciamo l'attenzione a a diverse strumenti digitali che possono anche facilitare l'apprendimento quindi e poi per ragazzi e ragazze sono sempre diciamo in questi casi sono sempre strumenti che che attirano l'attenzione proprio perché sono sono diverse no delle magari delle di quello che viene svolto spesso in classe quindi qui nello chat io spero potrei digitare e mandarvi un link però prima di cliccare al link vi chiedo un secondo di pazienza perché devo avviarlo io quindi vi chiedo se potete cliccare sul link e se questo link vi porta già a una prima domanda proviamo da cliccare sul link ok dovete rispondere alla domanda che vedete ok ora c'era anche avete visto un countdown c'era il timer che vi appare non mi riuscivi a cliccare non riuscivi a cliccare sì ma ora andava forse cliccavo il punto sbagliato ok allora condivido un attimo lo schermo e chiedo a Stefania se ha visto se è riuscita a entrare e vedere la domanda ora non importa se se non ha fatto in tempo a rispondere per il giusto per capire sì 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 semplice bellino molto carino ok ha cliccato lei sì ok benissimo quindi allora vado avanti e poi dopo queste prime tre insomma lo illustro un po' questo strumento ok quindi abbiamo visto che il processo in cui i gas nell'atmosfera entra nel calore del sole si chiama l'effetto serra e è la risposta corretta vado avanti quindi stessa cosa spero Giovanna che ti fa partecipare questa prossima volta ok siete pronte ok Giovanna hai avuto problemi di nuovo non so per quale motivo cliccavo gas effetto serra ma non ti fa mi fa vuotare ma dove devo cliccare solo per la scritta o da qualche altra parte dove dove clicchi Stefania perché io non lo vedo da parte vostra non so com'è c'è un menu a destra un menu a destra un menu ah beh ora vediamo nel terzo comunque avresti cliccato gas effetto serra dicevi Giovanna sì perché è più di uno no? esatto esatto un po' sono sia l'anidrocarbonica sia il metano sia anche altri esatto questo infatti è un po' diciamo una giusto per stimolare un po' una riflessione Stefania naturalmente è un inganno voluto io penso anidrocarbonica perché è il maggior responsabile ma in effetti sono i tipi di gas esatto esatto infatti è quello che è proprio serva da questo anche tipologie di uno degli obiettivi no? è proprio di far riflettere quindi si può fermare ci si può fermare tra uno e l'altro di queste domande si può chiedere appunto ragazzi e ragazze perché hanno scelto poi anche quello sbagliato perché poi non è sbagliato totalmente come diceva lei e quindi è importante anche questa condivisione da quello che magari dicono anche rispetto ai propri compagni e compagni di classe che forse non lo sapevano quindi bene e l'ultimo siete pronti? ora vediamo Giovanna guarda se c'è sulla sinistra diceva Stefania una una specie di ok allora qui abbiamo mi sa di nuovo Giovanna che non è riuscita ma ripeto non è assolutamente cioè mi dispiace nel senso che non so per quale motivo Menti non ti non ti fa votare però Stefania è un piccolo bug del sistema oppure io che so troppo dura ok allora in questo caso Stefania ora mi dispiace ma essendo solo solo lei so che lei che ha scelto la preparazione scientifica e allora qui vedendo la risposta giusta non so se diciamo appunto la riflessione in effetti è diciamo come si dice se non di poi no se è diversa no perché non so che cos'è la resilienza climatica ok allora benissimo allora quindi ecco la resilienza ora in questi ultimi anni si sta parlando molto di più poi Stefania tutti tutto questo questi concetti e tutto la diciamo quello che occorre per fare questa attività con in classe è tutto descritto nel manuale ok quindi ora come dicevo prima faccio sempre un po' questo metà ragionamento cioè sia quello che uno magari come insegnante svolgerebbe in classe ma anche noi oggi che magari appunto impariamo le cose anche nuove in questa occasione di formazione e allora resilienza climatica ora la definizione è proprio quello che si vede scritto come frase quindi di essere in grado di anticipare prepararsi a rispondere a eventi climatici pericolosi cioè la resilienza climatica soprattutto in questi ultimissimi anni dove conosciamo diciamo sempre di più cioè siamo più consapevoli non che conosciamo siamo più consapevoli grazie alle conoscenze e ai studi scientifici ma anche purtroppo tutta una serie di eventi che stanno succedendo con una frequenza anche più elevata dei proprio eventi cioè i disastri eventi climatici che hanno gli effetti veramente terribili spesso cioè disastrosi per quanto riguardano le le conseguenze su su tanti aspetti no delle vite delle persone sull'agricoltura sulle case sull'acqua sulla biodiversità insomma tutta una serie di effetti causati appunto da da questi eventi legati ai cambiamenti climatici sappiamo anche che un evento come un'inondazione per quanto è un disastro per tutti e tutte le persone colpite però sappiamo anche che viene vissuto magari in una certa maniera se uno vive appunto vicino a campi visenzi nella regione toscana come è successo l'anno scorso molto diversamente da una persona che vive in una zona di Bangladesh che ha completamente un'altra infrastruttura agricoltura edilizia e tutto quanto quindi la resilienza climatica è molto legata in parte diciamo ovviamente vale per tutti i contesti in tutte le parti del mondo però diventa ancora più importante laddove appunto le situazioni le condizioni della vita delle persone ma anche delle condizioni appunto dell'ambiente sono più sono più deboli nel senso che meno preparati a rispondere a questi eventi climatici quindi c'è un investimento dovrebbe essere maggiormente diciamo ci dovrebbe essere un'attenzione un maggior investimento anche da parte dei stati e anche da parte diciamo di organizzazioni come l'ONU o altre organizzazioni che coinvolgono più stati di dare fondi alle persone o a quegli stati a quelle regioni a quelle zone che devono proprio aumentare la propria loro resilienza climatica quindi di essere in grado ora di anticipare anche qui la scienza come lei ha scelto la scienza e la scienza entra moltissimo ovviamente è molto legato a questo cioè avendo più strumenti scientifici che possono anche anticipare che sta per accadere un tale diciamo evento però soprattutto di prepararsi e rispondere a questi eventi climatici pericolosi ora spero che insomma la la spiegazione è stata sufficiente poi quando si parla appunto di contesti molto diversi anche per i ragazzi e le ragazze diventa anche più forse più chiaro questo aspetto della resilienza climatica che magari noi e si può anche parlare per esempio della protezione civile e della preparazione scientifica quanto sono fondamentali per la resilienza climatica la protezione civile nella nostra regione è veramente molto elevata c'è proprio una organizzazione appunto molto alta di persone non solo di istituzioni ma anche di persone volontarie insomma tutta una serie di servizi che poi si attivano nei momenti in cui ci sono vari eventi disastri eccetera compresi quelli climatici la preparazione scientifica l'ho menzionato prima cioè sono fondamentali per andare a rafforzare questa resilienza climatica per far sì che se succede la stessa lo stesso diciamo evento a Campi Bisenzio questo anno o prossimo anno il territorio potrebbe essere preparato in un'altra maniera potrebbe avere una resilienza diversa rispetto a quello che aveva l'anno scorso allora questa attività ora mi interrompo di nuovo la condivisione però ecco questo strumento parlo soprattutto con Stefania non so se Elisa ci sente o può attivare la sua telecamera però ecco questo è un esempio Stefania di come usare il Mentimeter e lo lo useremo anche dopo un'altra volta si va sul sito di mentimeter punto com ok questo non è nel manuale perché nel manuale viene viene esposto in un'altra maniera e la faccio vedere come condividendo un attimo la finestra ecco allora nel manuale questo stesso attività viene fatto un po' come come gioco in classe che si può fare fa parte della legato 4 e ci sono diciamo sia 15 frasi che 15 risposte e i ragazzi i ragazzi possono o da soli o a gruppetti insomma questo può essere gestito come come meglio dall'insegnante l'idea è di cercare di scoprire il significato di queste varie concetti che sono anche molto importanti e un po' la base della conoscenza del del cambiamento climatico quindi si parla di resilienza climatica che magari è una di quelle più cioè meno conosciute come meno conosciuti come concetti però si parla anche di altri concetti come per esempio le risorse naturali l'ecosistema le desertificazioni eccetera quindi è un modo di entrare proprio un avvicinamento alle vari concetti che sono importanti per poi andare più nel verticale di conoscere il nostro tema del cambiamento climatico e quindi questo legato quattro cioè come può essere condiviso con la scuola in classe e poi qui un altro legato con le risposte giuste per l'insegnante per controllare o da dare alla classe possono controllare da soli se hanno fatto l'esercizio bene invece quello che ho fatto semplicemente ho impostato alcune giuste per dare la idea di questa attività in questo programma che si chiama Mentimeter quindi stavo dicendo prima mentimeter.com si apre e poi si può creare la propria la propria presentazione e lo puoi creare in diverse modalità c'è una modalità di proprio presentazione c'è una modalità di quiz c'è una modalità di raccogliere parole creare una nuvola di parole ci sono tante tante varie attività mi sembra che si può usare Mentimeter x numero di volte in una versione gratuita e poi invece se uno lo usa molto spesso c'è un costo però è insomma uno strumento carino e piace molto ovviamente a ragazzi e ragazze e vado avanti proprio per continuare e si vedrà anche un'altra attività che nel manuale nel kit didattico viene affrontato diciamo sempre attraverso un allegato che in questo caso fa vedere le affermazioni che possono essere lette dall'insegnante è un vero falso quindi studenti studentesi la classe deve esprimere la propria opinione rispetto all'affermazione se questa affermazione è vera o è falsa tornerò un attimo diciamo a illustrare meglio come si svolge l'attività in classe però prima lo facciamo un attimo noi qui così continuiamo a rendere questa questa mattina più interattiva che scorre più piacevolmente spero allora quindi io torno al mio menti preparo questo altro che avevo insomma preparato e spero di poter condividere con voi un attimo il nuovo codice il nuovo link insomma secondo solo che non me la fa fare ok si si chiama sfatta il mito scusate sfatta il mito l'abbiamo appena fatto questo è quello di del vero falso quindi sì ho sbagliato io sfatta il mito è questo che stiamo per fare invece scopri il significato era l'attività precedente quindi sfatta il mito su sempre su mentimeter vi copio e lo incollo qui nello chat il link però come prima vi chiedo solo un secondo di pazienza di non cliccare perché devo prima avviare la presentazione se no non non ok ora potete cliccare sul sul link io condivido di nuovo schermo così lo possiamo volendo lo potete vedere anche i risultati insieme ok allora e si parte con il vero quindi questo è un vero falso va bene c'è un'affermazione rispondete se l'affermazione secondo voi è vero è falsa naturalmente sono anche domande un po' per stimolare anche una sia una diciamo un pensiero un po' come si dice in inglese out of the box quindi magari non sempre così lineare come come pensiero quindi anche di stimolare un po' una riflessione un pochino più più ampia più critica e spero anche un po' più divertente allora vado con la prima domanda la prima affermazione Giovanna tu hai sempre problemi mi sa vero o no ti è partito benissimo ok ottimo quindi spiegare meno cibo è un modo per ridurre le emissioni di cassera avete entrambi cliccato la risposta giusta ora non mi soffermo su tutte perché sono diverse magari quelle che magari sono un pochino più insomma che si potrebbe ragionare diciamo magari non così legnari ecco come come ragionamento qui a questo punto c'è questa è una modalità di menti non so se state vedendo al mio schermo non so chi è chi non è importante per me sapere chi è chi voi sapete chi è chi però è un se volete si può anche introdurre questo leaderboard quindi un modo di far vedere no ragazzi ragazze chi chi è chi sta vincendo ma in base sia alla risposta giusta ma soprattutto chi è più veloce nella risposta quindi insomma spesso può stimolare una competizione sana poi magari per altre in altre occasioni forse non è non è quello la diciamo la la tecnica adatta vado avanti ok e facciamo la prossima ok ottimo quindi anche qui tutti d'accordo i scienziati non possono raggiungere un consenso sul fatto che i cambiamenti climatici sono reali causati dell'uomo ora vi faccio vedere dopo che accompagnati a ogni di queste domande affermazioni scusatemi e alla risposta giusta poi ci sono proprio nozioni cioè ci sono delle informazioni che l'insegnante può condividere anche con con la classe e quindi questo diciamo la cosa che posso aggiungere oltre a quello che troverete nel manuale in questo allegato e che anche ultimamente il lavoro è regolare diciamo perché viene fatto ogni ogni mi ricordo se sono ogni tre anni però c'è un report che esce dell'IPCC che è questo International Panel for Climate Change dell'ONU che è stato costituito veramente più di vent'anni fa che va a monitorare e mette insieme tanti scienziati che lavorano proprio per monitorare tutto diciamo le cause e diciamo l'impatto dei cambiamenti climatici e non solo ma anche possono mostrare quali sono i trend e quali sono i scenari in futuro basato su diciamo i modelli attuali del nostro del nostro modo di vivere i nostri consumi del nostro diciamo il nostro modo anche di mangiare di coltivare eccetera ma anche su scenari diversi quindi cosa succederebbe se in effetti riusciamo in una maniera diciamo urgentamente non essere più dipendenti dal carbone per esempio come fonte di energia o altro quindi ci sono tutta una serie di fonti attendibili anche inseriti in questi in queste attività ovunque nel manuale ma parlo nello specifico di questa attività dove potete anche se volete anche approfondire il tema o questa affermazione o anche dare condividere dei fatti con la propria classe rispetto a quello che è stato detto o non detto anche durante questa attività vado avanti ok siamo molto vicini tutte e due siete molto vicini andiamo avanti con la prossima affermazione ok allora una persona non ha votato non so se perché chiedo solo se perché non era indecisa questo era no non trovavo il posto perché mi sono aperte tante cartelle non trovavo il posto dovevo votare poi l'ho trovato ma era troppo tardi ok ok quindi Stefania cosa avresti detto Stefania scusami non ha non ha votato vero no non ho votato però avrei detto sì e avrei sbagliato ok quindi secondo lei è l'America che ha metto la maggior parte invece a questo punto so che è Giovanna che ha scelto il giusto Giovanna tu quale quale stato allora secondo te emette la maggior parte del CO2 allora io non so sicura ma direi qualche paese in via di sviluppo tipo oppure ah no oppure pure la parte degli Emirati Arabi per tutta la parte di il petrolio no ok quindi quel senso perché la cosa mi è venuta in mente sinceramente è l'overshoot dei e quindi mi ricordavo alcuni paesi tipo appunto mi sembra Arabia Saudita così erano fra i primi che finivano le loro risorse subito quasi a gennaio e quindi ho fatto questo ragionamento l'ho collegato però anche so che comunque sono molto impattanti anche i paesi in via di sviluppo tipo l'India e altre allora nel manuale lo troverete un link proprio al grafico quindi si può vedere no quali sono qui mi sembra che sono più o meno i dieci stati e poi c'è il resto del mondo ok allora il resto del mondo supera diciamo anche il primo quello che è primo però se si parla dei proprio dei stati lo stato che emette assolutamente la maggior parte di CO2 in questo momento è Cina seguito da America seguito da America e poi ci sono c'è anche India insomma ci sono altri stati non è un stato ma anche per far vedere che anche noi come Europa c'è anche Europa in questi primi dieci quindi anche Europa contribuisce molto diciamo le emissioni però poi infine a questo grafico si trova il resto del mondo quindi tutti quei paesi che c'è per esempio i stati arabi dove c'è una grossa produzione anche di di estrazione anche noi produzione del carbone e insomma assolutamente superano poi purtroppo tutti questi emissioni bene andiamo avanti qui abbiamo un netto stacco del leader ok avete votato il falso che è corretto chiedo a entrambe cosa avreste detto allora cioè non è 5 gradi in quanto è secondo voi stima ovviamente se se non sono dati anche molto precisi 2 gradi 3 ecco sì allora questo è importante allora sì diciamo la risposta è quasi 2 insomma tra 1 18 e 2 diciamo più o meno poi sono rapporti di scienziati che magari fanno uscire i dati diciamo più aggiornati eccetera però stiamo comunque andando su 2 allora perché è importante di porre anche questa questa affermazione in questa maniera quindi qui si parla di 5 gradi e le 5 gradi magari ci sono vari motivi anche no per porre in questa maniera però quello che era un po' l'intento di questo oltre a come sempre stimolare una riflessione no proprio sui dati scientifici quindi l'importanza di andare a vedere la fonte chi ti dice l'aumento della temperatura globale ma anche proprio che 5 gradi sono tanti sono pochi anche di ragionare un attimo con la classe rispetto a cosa significa il 5 gradi e cosa significa poi quello che sta succedendo con il appunto il vero numero che è quello di 2 gradi cioè in questi ultimissimi anni l'aumento sono dati che troverete nel manuale però è interessante anche che l'aumento oltre che dal 1880 siamo arrivati a 2 gradi però è vero anche che l'aumento in questi ultimi 20 anni è molto più veloce rispetto all'aumento prima quindi c'è proprio c'è una tendenza stiamo andando su un picco molto anche pericoloso non siamo a 5 gradi quindi questo anche in un concetto di non è così grave diciamo la importanza anche di parlare in una maniera con studenti studentesse che non è solo di allarmismo perché purtroppo l'ecoansia c'è 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 grandi motivi anche per sentirla però sappiamo anche che questo poi causa anche altre tipologie di problemi come qualsiasi altre tipologie di depressione pressione ansia eccetera quindi una cosa molto utile in questi casi anche di ragionare su quello che quando parlavo prima dell'IPCC loro hanno proprio creato una specie di simulazione basata su dati quindi una simulazione scientifica di scenari e quello che dicevo anche prima allora noi stiamo in questo momento su due gradi in più rispetto a più di cento cento cinquanta insomma anni fa e la temperatura non scenderà cioè questo ora non è che uno deve dire questo a ragazzi e ragazze per forza però sappiamo che questo non scenderà almeno non scenderà per i prossimi duecento anni sta a noi sta a noi tutti e tutte sta a noi stati ovviamente le imprese tutti i grandi compagnie eccetera sta a noi tutte e tutti di cercare di mantenere e non andare oltre a questo aumento e quindi l'IPCC fa vedere diciamo tre soprattutto scenari quello che succederà e quindi legato anche all'aumento della temperatura quello che succederà se continuiamo a vivere consumare eccetera in questa maniera quello che può succedere se cambiamo diciamo in una maniera è drastica oggi e quello che può succedere anche se invece c'è un ulteriore impegno abbastanza purtroppo irrealistico però se c'è un ultimissimo c'è un ulteriore cambiamento quello che potrebbe succedere in termini di poi mantenimento dei gradi o aumento dei gradi centigradi rispetto alla media globale però ecco uno dei messaggi che qui si voleva far passare è che diciamo la situazione sì è difficile perché lo stiamo vivendo anche noi i cambiamenti climatici anche in Italia gli estati che sono più toridi più eventi legati ai cambiamenti climatici che stanno succedendo anche nel nostro paese così come negli altri però non è diciamo così grave come un aumento è importante però che non diventa che non si aumenta quindi questo è un po' l'intento qui allora vado vado veloce magari non ci non ci fermiamo ora su sui prossimi e possiamo anche interrompere tra pochissimo scusate verso ecco andiamo su su questo e magari ci fermiamo ok abbiamo un vero o un falso che diventa ancora più interessante quindi chi ha detto vero chi ha detto falso insomma prendete per favore la parola e illustrateci perché avete votato in questa maniera allora prego io ho detto falso così a impulso perché cioè stavo stavo pensando magari a alla qualità dei grani che evolvono solo perché ho pensato al la pasta non sarà più la stessa perché sì in effetti è falso perché probabilmente evolvono i grani quindi ci sono diversi tipi di grani e non sarà più la stessa rispetto a quella che è stata la pasta iniziale perché era fatto con alcuni tipi di grani che adesso magari o stanno sparendo o si sono modificati questo stavo pensando però ho risposto a impulso ero in ritardo sì io ho risposto vero in quanto appunto tutto il momento del clima anche eventi estremi molto caldo scarsità d'acqua grandini ovviamente nell'agricoltura avranno tutte le conseguenze negative e un aumento delle difficoltà per non parlare del fatto la pasta non è già più come era perché con con tutta l'agricoltura intensiva e le monoculture si sono anche create tutte le malattie alimentari collegate no all'assunzione di un grano che non è salutare è fatto solo per il sistema economico fondamentalmente no e quindi tutta l'insorgenza anche delle patologie come la celachia eccetera io ad esempio volevo condividere questa piccola cosa con voi personale e io non sono celiaca ma da qualche mese cerco di eliminare il più possibile il grano normale chiamiamolo prediligendo farro e tutti gli altri grani antichi e anche gli pseudocereani pseudocereali e sto molto meglio a livello di energia non ho più le allergie che avevo e un sacco di cose e volevo anche dirti Aretha scusa non so se hai visto che si è collegata un'altra docente serena sì ora se posso giusto finisco qui e poi do il benvenuto alla nuova insegnante e spiegherò un po' dove siamo cosa stiamo facendo se posso giusto quindi per finire questa parte esattamente quello che avete detto già voi quindi anche appunto ragionando magari non importa se uno dice non è quello l'importante se uno sbaglia o non diciamo la scelta è proprio la riflessione anche insomma posteriore che fa e quindi appunto come diceva anche prima Serena assolutamente cioè questo è Stefania scusi Stefania assolutamente questo è diciamo legato appunto a tutti questi cambiamenti che stanno colpendo anche l'area appunto nostra del Mediterraneo non solo infatti quello che diceva ora Giovanna allora tutte le varie studi dicono che più o meno quando arriveremo nel 2050 con l'aumento del CO2 nell'atmosfera anche la appunto la qualità della pasta peggiorerà quello che sta succedendo anche magari per motivi della produzione la raffinazione eccetera il grano duro di altra CO2 non solo contiene meno proteine quindi anche noto questo aspetto di ce l'ha le aspetti appunto di alimentazione no dell'importanza dell'alimentazione che è un elemento cruciale nella produzione della pasta no parametro anche più importante per la sua tenuta in cottura eccetera ma anche il più CO2 vuol dire meno ferro o meno zinco nella pasta nel grano duro quindi anche a livello di proprietà perde quindi insomma ci sono varie aspetti che poi andranno a colpire se appunto continuiamo in questa maniera anche proprio la nostra la produzione delle alcune seriali che sono altre coltivazioni che sono molto importanti anche per noi in Italia allora come facciamo questo in classe e poi lascerò la parola a Serena Bartoli che ci ha aggiunta ci si è aggiunta a noi raggiunta a noi come facciamo questo in classe allora in classe l'attività è un po' diversa cioè noi abbiamo fatto online in classe si può svolgere in questa maniera che la classe viene cioè serve uno spazio quindi potrebbe essere un'aula dove si spostano tutti i banchi però sarebbe ancora meglio di avere una non so una palestra anche andare fuori se ovviamente è possibile utilizzare il corritorio e c'è un posto dove proprio non c'è non ci sono banchi sedie eccetera in mezzo si crea una specie di linea che può essere una linea vera fatto con lo scorcio di carta un gomitolo di lana insomma oppure può essere una linea diciamo invisibile però da una parte della linea si può attaccare un cartellino con scritto vero scritto a mano una carta riciclata dall'altra parte falso o mettendolo insomma per terra insomma questi due cartellini quindi come succede come funziona questa attività che per tutti questi anni che abbiamo sperimentato continua a essere un'attività davvero che stimola molto il pensiero stimola l'ascolto attivo ma anche proprio è un modo di apprendere in una maniera collettiva anche dinamica con un impatto la classe inizia ogni volta che si si dice un'affermazione l'affermazione viene detta dall'insegnante la classe inizia in mezzo di questa linea virtuale l'affermazione va detta in silenzio e questo è un po' delle regole del gioco che vengono inserite all'inizio vengono diciamo esplicitate all'inizio che in silenzio ragazzi ragazzi dopo aver sentito l'affermazione scelgono di andare verso il vero o verso il falso diciamo rispetto a quello che è il loro pensiero chi è indeciso può rimanere anche andando appunto più verso uno non così nettamente al vero nettamente al falso chi appunto magari veramente non riesce a decidere può anche rimanere più o meno a metà quindi si dà il tempo i pochi secondi per spostarsi quindi c'è un proprio schiaramento schiaramento no schiz ora aiutatemi che mi mi confondo sempre con questo verbo in italiano schiarirsi schiarimento come schiarimento schiarimento che uno va verso diciamo uno o l'altro schiarimento esatto schiarimento e poi si chiede magari a quattro persone quello che è estremamente verso il vero estremamente verso il falso un po' indeciso anche a metà di parlare e giustificare la propria posizione perché hanno detto vero perché hanno detto falso dopo di aver dato la parola agli altri e gli altri insomma alcune di loro sempre specificando che è importante ascoltare quello che viene detto prima di rivelare la risposta giusta si può chiedere a loro se vogliono rispetto a quello che è stato detto possono anche diciamo ultimamente cambiare posizione quindi magari ci saranno occasioni quando dopo aver sentito i compagni e i compagni di classe si spostano magari cambiano idea completamente o si spostano in parte o non si spostano sono ultimamente convinti di quello che è la loro affermazione quindi ecco l'attività in classe si svolgerà in questa maniera diciamo di solito con un un grande convolgimento un grande impatto da parte di tutta la classe faccio vedere lo avevo fatto vedere prima ma faccio di nuovo vedere questo allegato che si trova questa attività in allegato 5 che è quello che si chiama sfatto scusate ecco sfatto il mito noi abbiamo fatto online ma si trova in questa maniera dove ci sono le affermazioni vengono lette e poi questo invece quello che spiegavo un po' prima per l'insegnante accanto alla risposta vera o falso la v o la f poi c'è tutta una serie di informazioni link che poi uno potrebbe andare a ripreporre anche in classe diciamo con più tempo se uno vuole dedicare il tempo anche a approfondire maggiormente questi argomenti mi interrompo un attimo lo schermo perché volevo fare volevo insomma parlare un attimo con la nuova arrivata quindi chiedo se posso Serena parto di accendere un secondo la telecamera e il microfono se può ora non so se Elisa nel frattempo fa il lo può fare anche Serena ci sente se sì forse no mi piace allora niente quindi ecco questo questo è insomma la presentazione un po' di questa questo questo aspetto questo questa attività nel momento in cui si va dopo aver introdotto alcuni concetti in quello che era scoprire il significato con questa attività invece si va più nel verticale di andare un po' a ragionare sui vari aspetti dati statistiche del proprio del cambiamento climatico anche per un po' capire c'è la classe che tipo di conoscenza consapevolezza a rispetto a questo importante tema c'è un video carino da Luca Mercalli da far vedere Luca Mercalli che parla di cambiamenti climatici diciamo penso che è una persona ormai abbastanza conosciuta spero abbastanza conosciuta in Italia per quanto riguarda il il tema dei cambiamenti climatici quello che volevo fare vedere era un video suo e magari lo guardiamo e cerchiamo di illustrare questo prossimo lo faccio vedere solo magari una parte del suo video Luca Mercalli parla in una maniera molto chiara e questo è importante per i ragazzi e ragazze nel momento in cui va a condividere diversi concetti in effetti lui lo fa in una maniera molto chiara scientifica però anche con un linguaggio molto divulgativo allora condivido spero il video con l'audio questi sono il video che si chiama 10 domande che hai sempre voluto fare a Luca Mercalli lo faccio vedere solo una piccola parte hai una soglia da non superare per non avere un cambiamento climatico catastrofico perché siamo già dentro il problema cioè il punto di non ritorno l'abbiamo passato già 40 anni fa sono Luca Mercalli ricercatore nel campo dei cambiamenti climatici presiedo la società meteorologica italiana e metà della mia attività però è legata alla divulgazione cambiamenti climatici ci sono sempre stati il problema è ora stabilire se il cambiamento climatico che stiamo vivendo è causato dalle attività umane e su questo il dibattito ormai direi è chiuso ormai da 40 anni siamo fondamentalmente certi che l'unico fattore che sta agendo in questo momento è di natura umana e cioè sono le emissioni derivanti dalla combustione dei materiali fossili ci siamo dati ormai una soglia da non superare per non avere un cambiamento climatico catastrofico ma in realtà abbiamo già spostato la sticella avanti perché siamo già dentro il problema cioè il punto di non ritorno l'abbiamo passato già 40 anni fa è un po' come una persona che ha la febbre prima è sana è a circa 37 gradi di temperatura corporea poi arriva a 38 ha già guadagnato un grado è già malata qual è il prossimo punto di non ritorno beh cerca di non passare i 39 i 40 i 41 ma a 42 gradi sei morto ormai non rispondo più nulla chi ha questo pregiudizio pazienza lo lasciamo andare per la sua strada e cerchiamo invece di lavorare sui milioni sui miliardi di altre persone che ancora non hanno nemmeno l'informazione di base le cause in sé del negazionismo attingono credo a tre grandi filoni il primo è proprio di interessi economici quando si vanno a toccare interessi così enormi come il mercato delle energie fossili è ovvio che si faccia di tutto per disturbare il processo di transizione alle energie rinnovabili o un mondo insomma diverso più sostenibile l'altra potrebbe essere una motivazione assolutamente personale individuale spesso si esce dall'irrilevanza dicendo no a qualcosa che è un dibattito caldo un tema caldo infine direi c'è ancora un elemento che interessa tutte le categorie cioè non vogliamo credere che ci sia un problema così grande nel metterci in discussione e quindi preferiamo vivere di negazione e questo è un processo che invece è antropologico Allora interrompo qui è un video che dura qualche minuto in più però interrompo qui e mi lego diciamo a quest'ultimissima attività che faremo prima della della pausa quindi riprendo un attimo quindi è un video appunto che va cioè grazie a Luca e Mercalli si fa toccare tutta una serie di altri temi legati a cambiamenti climatici importanti che che possono essere poi utilemente poi approfondite con con la con la classe spero che sto condividendo la cosa giusta ancora non sto condividendo niente ok allora volevo riprendere un attimo la presentazione però condivido come vuoi questo eccolo qua ok questa slide allora Luca in questo video parlerà già magari diciamo ho iniziato a toccare questo tema però parla anche proprio dell'importanza dell'informazione è quanto i media influenzano il dibattito pubblico quindi una delle attività ora non lo facciamo perché voglio vorrei veramente finire e darvi il tempo per una piccola pausa però una delle attività che c'è in questo manuale che anche qui è un modo per approfondire maggiormente ma anche stimolare diciamo una maggior consapevolezza rispetto a come i media appunto possono in positivo ma spesso purtroppo in negativo possono influenzare i pensieri il dibattito pubblico rispetto ad alcuni temi per non poi andare anche a parlare dei fake news per esempio quello che facciamo è mostriamo diciamo possiamo distribuire una serie di titoli e ora magari vi faccio vedere questo allegato 8 sono titoli dei giornali quindi non c'è nemmeno proprio il testo dell'articolo c'è solo il titolo e sono diciamo divisi su diciamo come il titolo è legato a un altro un altro tema in questo caso quello che magari volevo farvi vedere è il cambiamento climatico come conflitto ci sono quattro categorie questo è come conflitto e poi rispetto a questi diciamo titoli ci sono una serie di domande che potreste fare che si chiede ai ragazzi e ragazze da fare proprio per andare a capire posto in questa maniera cambiamento climatico come conflitto cosa succede cosa crea come reazione come pensiero cosa ti fa pensare è tutta una serie di questioni che sono legati poi anche alla la parte linguistica ma anche c'è un lavoro molto anche psicologico no e altro per quanto riguarda il il lavoro quindi lo vedrete nel manuale nei moduli 3 e 4 si divide i ragazzi in quattro gruppi c'è un momento proprio di condivisione quindi i gruppi stessi lavorano su questi titoli e ogni gruppo avrà il suo tema quindi io prima parlavo di cambiamento climatico e il conflitto ci sono altre tre tematiche e poi successivamente attraverso la guida che è la guida per l'insegnante che condivide un po' come si potrebbe alimentare questa diciamo riflessione che si fa in classe per poi arrivare a un lavoro molto importante legato invece alla questione di fake news delle buffole e del debunking quindi tutto un lavoro fatto da diverse persone che infatti portano avanti per fortuna anche un lavoro di come si dice di dare le informazioni contrastare queste disinformazioni con le informazioni basate sulla scienza stiamo lavorando molto sulla tendibilità delle fonti e tutt'altro quindi troverete anche un vademecum legato a questo a questo lavoro che si può condividere con la classe dove si va appunto a lavorare a lavorare su l'utilizzo molto utile dell'internet nella ricerca ma con attenzione quindi quando andiamo a verificare le fonti quali sono gli aspetti importanti da verificare e quindi c'è un vademecum che si può condividere con la classe anche che permette poi a leggere cercare di leggere diciamo con un'altra attenzione anche un sito un fonte o guidare un po' una ricerca volevo giusto farvi vedere questo questo allegato che l'avevo detto era allegato 8 quindi lo mostro e poi andremo in pausa quindi allegato 8 è qui ve lo mostro subito eccolo qua ora non so se è sufficientemente grande quindi questa è la scheda che si può dare la stessa scheda va dato a tutti i quattro gruppi però poi ogni gruppo ha il suo tema quindi nel caso che suggerivo da fare noi ma non lo faremo perché ci fermiamo era di trovare quali sono i titoli tra tutti questi che parlano di cambiamenti climatici come conflitto mentre gli altri avranno un altro tema come per esempio i cambiamenti climatici e la salute quindi insomma e altri quindi questo diciamo giusto per darvi un'idea di come viene come è questa attività e poi riprenderemo dopo la pausa per andare a vedere altri moduli gli altri moduli che sono rimasti di questo strand del cambiamento climatico quindi facciamo una pausa di quasi 15 minuti bene allora abbiamo finito prima della pausa diciamo parlando dell'importanza di lavorare sui media l'importanza anche di contrastare diciamo i fake news le bufole insomma il debunking volevo mostrarvi perché in effetti si vede meglio proprio dal manuale quindi volevo mostrarvi proprio questa parte nel manuale e questo che dovrebbe arrivare ora e proprio questo vede me comunque menzionavo prima per verificare una notizia quindi proprio un modo che si può anche condividere con i ragazzi e ragazze per abituarli un po' a questo concetto che non tutte le notizie che arrivano a noi sono vere ma è difficile però a navigare in tutti i sensi nell'internet per capire anche cosa è vero cosa no a proposito di questo una notizia nuova ma direi se non mi sbaglio proprio di questi ultimissimi giorni mi fa piacere quindi sì nel 31 luglio è stato è uscito però volevo condividere nel sito di ASVIS quindi parlo dell'alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile è venuto fuori un diciamo la notizia di un secondo che volevo condividere questa pagina qui con voi un accordo tra appunto questa allianza ASVIS e la RAI per promuovere diciamo la cioè per sensibilizzare ma anche promuovere la cultura rispetto alla diciamo delle fake news no? proprio contrastare le fake news quindi questo mi sembra per quanto riguarda poi cosa potrà passare alla RAI mi sembra una diciamo un protocollo un accordo insomma un protocollo di intesa molto molto importante con l'intento in effetti di lavorare a livello più sistematico nella proprio divulgazione delle notizie appunto basate sulla scienza e altro quindi mi sembra una mi sembrava molto rilevante a questo argomento bene allora riprendiamo la nostra presentazione non so se nel frattempo Stefania è tornata dalla pausa ci sente sì sì perfetto benissimo grazie Stefania allora vado avanti condivido un attimo e vado sugli ultimi moduli allora il primo i primi cioè prima della pausa abbiamo condiviso diciamo queste attività che introducono il tema del cambiamento climatico ma più sulla dimensione umana poi si sposta ora sulla dimensione ambientale quindi se riprendo un attimo la mia presentazione vado a questi prossimi slide quindi si parla dei moduli 5 e 6 in questo troverete una diciamo un approfondimento rispetto alla dimensione ambientale attraverso un ecosistema marino quindi c'è proprio un'attività da fare in classe diviso a gruppi anche qui come sempre tutte le attività sono dettagliate sono descritte però è un'attività sostanzialmente che va a vedere alcuni aspetti dell'ambiente marino e come i cambiamenti climatici stanno danneggiando anche l'ambiente marino e si parla soprattutto di tre conseguenze uno è l'acidificazione dei mari e degli oceani la seconda è la presenza sempre purtroppo sempre più impattante delle microplastiche plastiche e microplastiche e la terza è quella della pesca non sostenibile in particolare la pesca a strascico quindi è un'attività in cui ragazzi e ragazze possono diciamo simulare anche diciamo questi ambienti e vanno poi a vedere cosa significa cosa si intende per l'acidificazione dei mari cosa si intende per le microplastiche e la pesca a strascico e poi anche a vedere in una simulazione molto semplice però una simulazione si va a poi vedere quali sono le conseguenze di queste tre cioè le conseguenze delle cambiamenti climatico declinate in queste tre come si potrebbe dire tre effetti che hanno che stanno minacciando diciamo l'ambiente marino da qui si come sempre si ragiona o si cerca di ragionare su anche noi cioè qual è il ruolo di noi delle persone anche per quanto riguarda in questo caso i cambiamenti climatici quindi il modulo se andrà a introdurre questo aspetto di quali sono i comportamenti che favoriscono e che e o insomma riducono i cambiamenti climatici quindi a livello individuale a livello collettivi i comportamenti che andanno a favoriscono i comportamenti che favoriscono i cambiamenti climatici poi legati naturalmente a questi cioè si prende spunto da questi tre temi che menzionavo prima quello della acidificazione dei mari quindi CO2 nell'aria che poi diciamo viene assorbita dall'acqua dal mare cosa cosa succede quindi il fatto che il nostro comportamento il modo che noi consumiamo ma soprattutto il modo in cui noi produciamo attraverso i nostri consumi ma anche attraverso altri fenomeni influiscono appunto i cambiamenti climatici l'attività insomma umana quindi c'è questo questo aspetto nel modulo 6 qui lo vedete qualche esempio quindi per quanto riguarda scusate scusate se interrompo mi dispiace ma vi devo lasciare scusate ok ok allora grazie mille grazie per tutta la presenza vado avanti e poi magari potrà vedere la registrazione grazie mille arrivederci grazie quindi qui si può vedere alcuni esempi proprio dei comportamenti sia individuali che collettivi e per ognuno di questi nel manuale si può trovare anche diciamo tutta una serie di informazioni aggiunte link risorse siti che possono poi essere condivise con la propria classe si passa poi all'ultima dimensione quella economica questo viene svolta attraverso un gioco di ruolo carino da svolgere in classe che ha diciamo due obiettivi sia quello di conoscere come i cambiamenti climatici impattano le comunità nel mondo ma anche di esplorare possibili azioni contro i cambiamenti climatici a livello locale ma anche che possono sensibilizzare gli attori sociali verso una transizione sostenibile quindi è un gioco di ruolo che si rivolge si rivolge diciamo è concentrato diciamo su questo che vedete qui una grande azienda è una piccola cooperativa nei paesi dei fagioli quindi è tutto legato questa attività a un un contesto che si trova e tutto viene poi diciamo illustrato nelle varie allegati in in Guatemala nella produzione dei appunto dei fagioli poi viene appunto anche introdotto alcuni concetti come quello della monocultura quale potrebbero essere i pro e i contro ma soprattutto quali sono i rischi di una monocultura vengono anche trattati alcuni aspetti più legati a processi democratici come per esempio i consigli comunali l'importanza della votazione democratica e quindi varie anche competenze che possono essere stimolate molto simili magari a quello che uno fa utilizzando il metodo del debate quindi discussione negozazione presa di decisione insomma ecco tutti questi aspetti anche il gestire il conflitto eccetera è un gioco di ruolo che si deve impostare cioè l'insegnante ha il ruolo proprio della facilitatore facilitatrice in questo modulo si trova poi tutta la prima parte che è la preparazione del gioco dove come spiegavo prima in questo appunto modulo 7 si trova proprio il contesto quello che dicevo prima in Guatemala in un municipio che si chiama Sapamas insomma un nome di fantasia però insomma basato su un contesto molto insomma verissimile con questa azienda straniera Frijoles Corporation e la sua politica tutta una serie di una descrizione e poi anche questa piccola cooperativa con i propri insomma persone che ci lavorano che fanno parte della cooperativa e poi altri ruoli come per esempio il sindico che ha bisogno di convocare con un'assemblea pubblica per discutere un problema quindi il problema viene condiviso ogni gruppetto ogni individuo nella classe può assumere diciamo un ruolo da poi da esprimere da difendere e sì poi nel modulo 7 si va a iniziare a simulare questo gioco di ruolo che poi si conclude nel modulo 8 quando appunto si riapre l'assemblea cittadina dove ci sono tutta una serie di soluzioni che da parte dei ragazzi ragazzi sono state proposte e si deve votare e poi c'è una propria delibera del consiglio comunale in seguito alla votazione per cercare di mettere in pratica queste soluzioni ad 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 adottare queste soluzioni con poi una valutazione in chiusura e qui si va a questo punto negli ultimi due moduli di questo strand sulla giustizia climatica quello legato più all'attivazione all'accidenanza attiva qui vediamo la nostra Greta Thunberg qualche anno fa lei immagino anche per ragazzi e ragazze delle medie di oggi dovrebbe essere conosciuta se non lo è ci sono vari video qui abbiamo uno più recente quando Greta parla in senato in italia però nel manuale potete anche trovare proprio il suo primissimo discorso perché l'ha fatto all'età più o meno delle medie quando lei ha parlato per una prima volta è diventata poi molto conosciuta in seguito a quel discorso famoso al al cop in in Polonia qualche anno fa quindi prendendo diciamo partendo da lei come un esempio di una persona giovane si sposta un po' l'attenzione un po' più su il perché cioè perché i cambiamenti climatici abbiamo visto nei vari moduli quali sono cioè che cosa sono i cambiamenti climatici quali sono gli impatti che può avere a livello diciamo sociale economico ambientale ma in effetti perché dovrei preoccuparmi dei cambiamenti climatici quindi qui c'è una domanda che avrei fatto a voi però mi sembra che Giovanna chiedo conferma mi sembra che non ci sono insegnanti che possono rispondere in questo momento giusto? Purtroppo no ti dovrei accontentare di me sì no va benissimo era però era insomma una domanda da fare anche anche no cioè è interessante sempre capire cosa viene fuori quando ci sono più più voci nel cuoro certo mi dispiace purtroppo per le medie sì sì ma è sempre peggio non ci sono non ci sono problemi vado avanti giusto per la registrazione così lo possiamo condividere con loro e anche qui è una seconda domanda anche qui forse anche più più ora importante non è la parola giusta però insomma è interessante da pensare anche cosa succede se non facciamo niente quindi questo questa importanza di attivazione oltre al senso di responsabilità come cittadini cittadine il senso collettivo che è un po' è al cuore anche dell'educazione civica il rispetto per gli altri rispetto per l'ambiente la salvaguardia anche di no di vari aspetti del nostro pianeta e quindi cosa succede e qui nel modulo 9 si può fare questo diciamo si può porre queste domande attraverso un po' quello che si chiama sono due anzi attività che troverete qui uno è il perché cioè una catena di perché quindi ponendo la domanda perché dovrebbe importarmi qualcosa del cambiamento climatico qui si vede nel prima immagine che ci sono tre perché e quindi si chiede ai ragazzi e ragazze anche a gruppi insomma di cercare di rispondere a questo perché con altre domande e così si continua a formare una catena di perché quindi perché dovrei importarmi qualcosa del cambiamento climatico si genera una serie di altre domande e poi si riparte da quelle domande dicendo anche lì perché questi sono perché quella domanda quindi in questo caso si stimola un po' una appunto una riflessione su perché mi dovrei cioè quale sono l'impatto di non far niente e invece nel secondo che qui si vede che è allegato diciannove è un po' le conseguenze quindi se non faccio cioè se niente cambia cosa succederà e qui entrambi di questi esercizi dovrebbero essere a questo punto più fattibile grazie anche a tutta una serie di altre attività soprattutto altre tematiche che sono state affrontate prima quindi abbiamo già visto tutta una serie di conseguenze tornando a questo allegato diciannove tutta una serie di conseguenze che ci possono essere su tanti fronti se parliamo del sia delle nostre stelle di vita estate che cambiano spostamenti il modo di lavorare il modo di studiare cioè il modo di mangiare il modo di andare a fare anche qualche vacanza da qualche parte c'è tutta una serie di conseguenze che magari possono essere più vicine più vicine a loro come ragazzi e ragazze ma anche poi arrivare a conseguenze più ancora più diciamo ampie no però ecco importanti che partono da da loro e qui anche qui sono poi una catena quindi un una conseguenza che poi provoca altre conseguenze no quindi arrivando a vedere anche le minacce molto forte come diceva Giovanna proprio all'inizio quando parlava dell'importanza di di una una biodiversità un ambiente che 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 in salute e se non in salute l'ambiente non saremo mai in salute noi no e questo è un po' un'attività che in effetti lo mostra però lo faranno i ragazzi e i ragazzi lo costruiscono loro un'altra attività legata proprio a questo è di ragionare qui è rimasto in inglese per chi poi ci sono tante anche link in lingua inglese nel in questo manuale proprio per stimolare un po' anche l'utilizzo dell'inglese sia come diciamo lingua a sé ma anche come CLIL no c'è quindi utilizzando l'inglese per poi affrontare diciamo le varie discipline quindi qui un po' di cercare di trovare delle soluzioni mettendo un po' la scuola al centro quindi per quanto riguarda soluzioni sostenibili la scuola potrebbe lavorare per migliorare in qualche maniera l'aspetto dell'utilizzo per esempio di acqua quello che si vede in cima o dei trasporti o della biodiversità dei rifiuti dell'energia o di consumismo cioè di come si consuma magari alcuni prodotti che possono essere sia a livello individuale dei studenti studentesse ma anche proprio la scuola e qui invece è più inteso così quindi magari il consumo che la scuola fa della carta piuttosto dei strumenti tecnologici o altro quindi ecco questa è un'altra attività che si può fare per cercare un po' andare a trovare delle soluzioni e da qui anche vedere quale potrebbe essere quale potrebbero essere diciamo attività che in effetti potrebbero anche essere messe in atto a scuola quindi di innescare proprio un cambiamento partendo dalla scuola in ottica di di un sviluppo sostenibile e e poi anche a livello individuale ora non faccio vedere questo video perché non ci siamo non ci sono altri con noi però per chi poi seguirà la registrazione è un video che parla della plastica dell'importanza di di ridurre la plastica e di riutilizzare e riciclare la plastica bene fatto da 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 punto di vista dei dei bambini anche più piccoli diciamo del della fascia delle delle medie però molto carino che ha comunque il suo impatto anche sulle persone più grandi e l'età più grande però è diciamo è un video che appunto va a stimolare speriamo anche questa riflessione che di cui abbiamo detto prima proprio di cosa posso fare io nel mio piccolo e qui si mentre prima si parlava del livello della scuola qui si può invece andare a a guardare quali sono i nostri stili di vita individuali ma anche quelli più più globali però c'è di avere una maggior consapevolezza rispetto alla propria impronta ecologica e di vederla quindi si chiede in questi ultimi moduli a ogni studente di cercare di scrivere un specie di elenco degli impegni che potrebbe fare realistici quindi insomma non descrivere le cose che poi rimangono scritte ma non vengono attuate quindi anche se sono uno o due però sono impegni concreti che in effetti ognuno di noi proprio perché ha scelto ogni studente ogni studentessa proprio scelto si impegna a fare quindi si potrebbe poi dopo magari una settimana un mese sei mesi si potrebbe cercare di tornare a vedere un po' monitorare questi impegni come stanno andando cosa è successo c'è stato qualche cambiamento che hanno visto perché vedere il cambiamento in atto vedere che ognuno di noi veramente può fare qualcosa nel nostro piccolo ma può anche fare delle cose in grande perché sensibilizzare i nostri parenti i nostri amici su un determinato tema che ha a che fare come qui come un esempio di un riuso o di un riciclo corretto in effetti potrebbe avere quella conseguenza un po' l'effetto domino che poi va in effetti a sensibilizzare tante altre persone e questi sono messaggi importanti per quanto riguarda anche la chiusura di questo strand perché ci sono tante notizie brutte che abbiamo masticato che abbiamo visto e purtroppo la realtà che ci circonda per quanto riguarda il cambiamento climatico non è un quadro bello non è un quadro positivo è un quadro diciamo con tante sfide ci sono tante cose che possiamo fare e in effetti questo messaggio di ognuno di noi a livello individuale ma poi ci sono tutta una serie di altri livelli che sono quelli più di aziendali dei politici insomma per parlare di altri due però ci sono tanti tanto che ognuno di noi può e direi dovrebbe dovrebbe fare anche per cercare di dare il proprio contributo ci sono anche altre attività molto più diciamo una serie di idee come un flash mob qui si si può vedere un flash mob che è stato creato in 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 varie in varie luoghi e quindi sono idee che possono essere condivise tra i ragazzi e ragazze per come loro possono se scelgono di sensibilizzare per esempio i compagni compagni delle altre classi o della scuola più ampiamente se l'istituto comprensivo o anche di quelli più piccoli magari idee come per esempio di creare un flash mob cos'è un flash mob e magari non tutti e tutte lo conoscono e condividere proprio un esempio concreto e magari questo potrebbe essere una delle dell'attività di sensibilizzazione che scelgono anche loro quindi si si va arrivare a proprio questo brainstorming rispetto a loro idee cioè che cos'è che loro vorrebbero fare e appunto si arriva con questa cittadinanza attiva questo componente della cittadinanza attiva alla fine diciamo dell'ultimo modulo modulo 10 di questo strand allora io interrompo un secondo la presentazione per poi andare di nuovo a condividere il manuale perché l'abbiamo il nostro manuale ora pronto però un secondo eccolo qua quindi siamo rimasti prima a vedere il vadomecum quindi eravamo alle fine del modulo 4 quindi qui vedete il modulo 5 che inizia con questa dimensione ambientale tutte le varie spiegazioni nozioni che vanno anche a preparare maggiormente se dovesse servire all'insegnante con informazioni rispetto a questo quello che dicevo prima il lavoro sull'ambiente marino quindi si fa attraverso questo museo all'acqua aperta troverete tutta una serie di appunto spiegazioni di come svolgere anche questa attività si passa quella economica con l'attività della simulazione del gioco quindi questa simulazione della grande azienda la piccola cooperativa e poi invece passare agli ultimi due moduli modulo 9 e modulo 10 che invece va a vedere diciamo quali sono le nostre azioni che possiamo mettere in atto per innescare questo circolo virtuoso e proporre magari alternative alle nostre stili di vita attraverso diversi concreti esempi non solo Greta ma anche tutta una serie di altri esempi che possono appunto speriamo anche dare un'idea di fattibilità che i ragazzi e i ragazzi in effetti possono anche loro fare tanto nei loro contesti per promuovere in primis diciamo stili di vita più sostenibili e andare a contrastare diciamo i cambiamenti climatici bene allora io mi fermerò qui quindi chiederò a Giovanna di quando insomma è il momento di interrompere la registrazione non so Giovanna se volevi anche dire due parole in chiusura però da parte mia ecco mi auguro che per chi segue diciamo queste ore perché in effetti sono tante ore di formazione online attraverso questa registrazione può trovare poi prendo soprattutto il manuale e vedendo questo strand insieme a tutti gli esempi allegati che si trovano tutte poi le informazioni link eccetera può trovare un lavoro completo interdisciplinare che può affrontare questo tema in classe grazie sì grazie mille magari aggiungo giusto un paio di informazioni finali generali che kit ancora non sono disponibili ma lo saranno nelle prossime settimane quindi i docenti potranno scaricarli collegandomi collegandosi sempre appunto al sito www.schoolfood.it e facendo la registrazione all'area docente in quest'area sono disponibili i kit e poi anche le registrazioni di queste sessioni di formazione per il resto qualunque problema possano riscontrare le docenti i docenti o comunque per qualunque necessità possono contattare appunto noi tutor io Giovanna Novelli per la provincia di Grosseto poi c'è Lara per la provincia di Arezzo Ivan per Siena più o meno e niente ti ringrazio molto Areta di Arezzo